Allora, chiamiamo il presidente di giuria, Giuseppe Lazzari, vieni, vieni sul palco. Lazzari, alzati. Arriviamo a favore di Stella. Eccolo qui, il nostro presidente di giuria, quindi si conna seri. Buonasera. Buonasera. Buonasera, presidente. Ecco qua, l'abbiamo conosciuto all'inizio. Allora, Giuseppe. Che conoscenza, eh? Eh? Una coscienza di peso. Di peso, sì. Io so che i presidenti sono importanti, eh. Assolutamente. Perché ne va a export? Eh? No, vado a transit. Buono, buono, ci piace, ci piace. Io ogni tanto, anche io, ci vado con il pendolino. Basta. Col pendolino vado in trans. Col pendolino. No, col pendolino. Il psicologo mi manda in trans. Ah, ho capito, in trans. Però è meglio andare in trans, perché forse che il trans viene in te, ci sono gli effetti collaterali che non... Allora, torniamo seri, per favore. No, perché lui mi va su un contrasto contrastante del... Vabbè, lo so, io ho una cosa... Senti, presidente. Sì. Il giudizio, eh, fino a questo punto della serata, per te? No, è buono, abbastanza buono. Il livello è abbastanza alto. Li vedo, eh, carichi al punto giusto per quello che devono essere. Guarda, io ti dico che è la prima volta che presento una serata di questi giovanotti qui, e dietro le quinte c'è un'organizzazione che mette paura. Sono veramente bravi, molto tranquilli, quindi si vede che c'è una preparazione dietro un contest di questo tipo. Però voglio che tu, da esperto musicista come sei, dai un consiglio a questi giovani. Allora, no, mi ritrovi perché oggi abbiamo fatto uno stage di consigli, ne ho dati parecchi. Guarda, il consiglio per questa sera è uno solo. Vabbè, non li vedo dove stanno, però ragazzi, divertitevi, che il tempo passa veloce. L'importante nel canto è divertirsi e far divertire. Allora, grazie, raggiungi pure la tua postazione e ci vediamo poi per il finale. Grazie a Giuseppe Lazzari, presidente di giuria, e anche lui, componente degli Armonium.